Club S Club S abbiamo molto da costruire insieme Per le nostre 13 strutture turistiche ricerchiamo personale alberghiero Sala, cucina, animazione, sport, intrattenimento musicale, assistenza a bagnanti, ricevimento, housekeeping e manutenzione Le nostre destinazioni sono Sardegna, Calabria, Sicilia e Abruzzo Siamo convinti che è l'entusiasmo di chi collabora con noi a fare la differenza Club S, sei anche tu E perché no? Vivo in vacanza da una vita, perché no? Perché no?